In questa unità didattica parlerò del VOIP. Il VOIP, acronimo di Voice Over Internet Protocol, ovvero voce tramite un protocollo internet, in Telecomunicazioni ed Informatica, indica una tecnologia che rende possibile effettuare una conversazione tramite rete telefonica sfruttando una connessione internet. Lo scambio avviene in tempo reale, ed è necessario che gli interlocutori siano collegati alla rete e utilizzino lo stesso programma. I sistemi di VOIP più evoluti assegnano ora ai propri utenti un vero e proprio numero telefonico, utilizzabile con particolari telefoni VOIP. Tramite i VOIP è anche possibile telefonare da un computer verso la tradizionale linea telefonica. Questo servizio è di solito a pagamento, anche se le tariffe sono più economiche di quelle offerte per lo stesso servizio dagli operatori telefonici. Il programma VOIP più famoso è Skype, www.skype.com è il relativo sito internet, che integra anche i servizi di instant messaging, condivisione file, videoconferenza.